La polemica dopo la soppressione dei treni a lunga percorrenza sulla tratta della tirrenica regina ovviamente non poteva concludersi in poco tempo ed infatti la querelle infiamma con interventi pubblici da parte del mondo politico nell'obiettivo di alcune dichiarazioni piuttosto critiche ovviamente la decisione dei vertici di Trenitalia. Il primo è il consigliere regionale Alessandro Nicolò del PDL ad accusare Trenitalia e scrive in una nota di fronte ai comportamenti di Trenitalia palesemente contraddittori si auspica dopo la pausa estiva un intervento del governo forte ed autorevole finalizzato ad una programmazione delle strategie aziendali di Trenitalia per la Calabria e in particolare per Reggio riconosciuta dal Parlamento città metropolitana. Nicolò ricorda che in una lettera inviata il 5 agosto al ministro dei trasporti Altero Matteoli al sottosegretario alle infrastrutture e trasporti con delega alla direzione generale per le infrastrutture ferroviarie Giuseppe Maria Reina ed Antonino Foti in qualità di componente della nona commissione affrontava la questione relativa ai trasporti in Calabria in particolare denunciando il trasferimento di una posizione dirigenziale e del relativo settore di gestione del servizio personale del comparto Trenitalia da Reggio Calabria a Napoli e chiedendo chiarimenti su tale problematica agli autorevoli rappresentanti del governo e del Parlamento. Purtroppo, prosegue Nicolò, devo prendere atto che per l'ennesima volta come denunciato dalla Fast Confsal sempre ai danni della nostra regione e della provincia di Reggio si sta adottando da parte dei vertici aziendali di Trenitalia una politica di tagli ingiustificabili ai servizi ferroviari. Infatti sembrerebbe che a partire dal prossimo turno invernale 2009 molti servizi sarebbero limitati alla mezzia terme più segnatamente l'Eurostar Frecciargento nonché l'intera fascia ionica da Taranto a Reggio Calabria subirebbe gradualmente una lenta agonia perdendo i vari servizi cosiddetti a lunga percorrenza. Ed anche Gianni Lucera, consigliere regionale dei liberali del PDL interviene sulla vicenda. Trenitalia, dice Lucera, deve fare chiarezza e soprattutto garantire i collegamenti dai per Reggio Calabria che non può sopportare altri sopprusi e ulteriori limitazioni al diritto alla mobilità dei suoi cittadini. Nonostante le smentite arrivate da Trenitalia, dice Lucera, rimane intatta la preoccupazione che, a partire dal prossimo inverno, la nostra città possa subire ulteriori e devastanti tagli ai servizi ferroviari.